Il servizio di volontariato è stato prorogato fino alla fine del 2022. Dopo l'appello delle volontarie di Animalia che da oltre 20 anni gestiscono il gattile sanitario e che dal 30 aprile avrebbero cessato le loro funzioni come d'accordi scritti, le preoccupazioni per il futuro incerto si sono materializzate in una comunicazione arrivata martedì alle stesse volontarie. Esattamente ieri abbiamo ricevuto una PEC dal comune di Pesaro in cui ci comunicavano la proroga del contratto. Il nostro contratto che scade il 30 aprile verrà prorogato fino al 31 dicembre. Ovviamente siamo contenti di questa cosa anche se otto mesi fisicamente vedremo di farcela, per carità, però era quello su cui contavamo per il benessere e la salute dei nostri gatti che altrimenti dal primo di maggio si sarebbero trovati senza nessuno che li accudisse. Per cui otto mesi andiamo avanti fino al 31 dicembre. Ci auguriamo ovviamente che nel frattempo Comune e Aspes si accordino a Femmino Contratto, facciano insomma il tutto in modo di poter anche in questi mesi collaborare con Aspes per dargli le informazioni che riguardano la gestione del gattile, che è una cosa fondamentale perché è una gestione abbastanza complicata, non è così semplice come si vede da fuori. Per cui siamo molto contenti di restare. Una soluzione gradita, ma di fatto una soluzione tampone temporanea, perché sui servizi agli animali d'affezione resta in ballo un passaggio di competenze da Comune ad Aspes non ancora formalizzato, ma che ora ha quasi otto mesi di tempo per compersi e strutturarsi. Come per il gattile si va verso la proroga della gestione anche per i due canili, ma restano altri problemi, come il cimitero degli animali che ha cessato le sue funzioni al pari dell'ufficio tutela animali del Comune. Ma l'ufficio tutela animali, una volta andata in pensione l'impiegata che faceva capo a quell'ufficio, non c'è più nessuno. Per cui per ogni problema inerente, i gatti o anche i cani, comunque non sappiamo a chi rivolgerci. Non abbiamo più un ufficio di riferimento. Mentre a Fano c'è e va a gonfie vele. Ecco, quindi qualsiasi cosa, anche magari i servizi sociali che ci contattano a volte per dei gatti che rimangono soli, perché magari gli anziani, i proprietari anziani vengono ricoverati oppure purtroppo muoiono, chiedono, dovrebbero rivolgersi al Comune per sapere dove metterli, come fare, ma questo ufficio non esiste più.